Salve amici e amici e bentornati nella mia bottega. In un precedente video che vi compare qui ora vi ho fatto vedere come è possibile sciogliere con acetone o con benzina il polistirolo ottenendo questa pasta piuttosto densa, simile a un vinavil o una sostanza simile. Mentre con il diluente poliuretanico, diluente universale e diluente nitro è possibile ottenere questa vernice trasparente. In questo video con queste due sostanze ho fatto tanti esperimenti che ho già svolto, ho appena finito, questo è quello che mi avanza dagli esperimenti che ho fatto ottenendo lucidature trasparenti brillantissime, incollaggi, stucchi, paste di legno, una pasta modellabile e anche decorazioni. Se la cosa vi intriga rimanete con me e vi faccio vedere tutto. Via, cominciamo con questo video! Ve lo ricordo, con i vari solventi ho sciolto il polistirolo ottenendo queste vernici così trasparenti, a questa maniera, oppure questa è benzina e è venuta fuori questa pasta piuttosto rigida però sempre malleabile, stessa cosa con l'acetone, col poliuretanico anche in questo caso è venuta fuori una vernice trasparente e con tutte queste vernici ci ho fatto tanti esperimenti. Una cosa molto interessante credo siano queste lucidature. Queste sono lucidature fatte con il polistirolo sciolto con diversi solventi. Questo qui è l'universale, la U sta per universale, il P per poliuretanico e questo la N per nitro. Quindi con questi solventi è possibile sciogliere il polistirolo, ottenerne una vernice trasparente e guardate che lucidature che vengono a prezzi bassissimi perché soltanto al costo del solo solvente. Poi avete visto che ho fatto questo stencil con la sabbia, è avvenuto questo decoro testurizzato, assolutamente resistentissimo, anche queste vernici hanno assolutamente un'ottima resistenza. Poi andiamo avanti, vediamo gli altri esperimenti. Qui ho provato a fare questi calchi, tiriamo fuori, vediamo cosa è venuto. Ecco qua, qui è venuto fuori questo angioletto, decisamente meglio di quanto sperassi. Avevo previsto che sarebbe venuto male, invece è venuto un angioletto carino. Fatto praticamente quasi di una schiuma trasparente, ha l'aspetto piuttosto schiumoso, non so se riesco a farvi vedere bene. Quest'altro invece l'ho fatto con stucco sciolto con diluente poliuretanico e in questo caso rimane piuttosto fragile. Forse ancora non era perfettamente secco, rimane un pochino morbido. Quindi quest'altro l'avevo fatto con polistirolo sciolto con l'acetone, quindi questo è sciolto con acetone e viene assolutamente bene. In una prova precedente ho provato a fare uno stampo meno dettagliato, ve lo posso far vedere, e anche in questo caso era venuto un lavoro pressoché perfetto. Poi un'altra cosa molto interessante, ho fatto questo stucco e ora dobbiamo vedere se è possibile carteggiarlo, se si può usare come stucco. Qui il legno era piuttosto scabro, ecco come potete vedere qui, e qua l'ho lisciato con questo stucco, ora va carteggiato, vediamo. Perfettamente carteggiabile, va benissimo e viene uno stucco tipo lo stucco in pasta, tipo il modo stucco, quegli stucchi là. Per quanto riguarda le paste di legno, queste le ho tutte fatte tre giorni fa e vediamo che questo fatto col diluente nitro è perfettamente secco, col diluente universale anche, col poliuretanico è ancora un pochino morbido, con l'acetone è perfettamente secco e anche con la benzina ancora un pochino morbido, ma il più morbido è questo qua. Possiamo fare un test anche con uno scalpello e vedere comunque una certa resistenza ce l'ha, questo è anche più secco. infatti si taglia abbastanza male, questo dovrebbe essere facile perché ancora non è secco, ecco qua, questo credo sia il più duro, infatti questa è una pasta perfetta, fantastica. Proviamo a romperla, resistentissima, questa ve la consiglio proprio, la benzina ancora non è secca per cui dopo quattro giorni ancora avrebbe bisogno di qualche giorno, ma probabilmente fra qualche giorno potrebbe essere anche più resistente che la pasta di legno fatta con l'acetone. Poi qua ho fatto la prova di versare qua questi due mucchietti di polistirolo sciolto con la benzina e con l'acetone. Quello con la benzina dopo tre giorni è ancora morbido, ha fatto una pelle superficiale, dentro si è formata tutta una schiuma, si è decisamente gonfiato rispetto a come l'avevo messo, però è ancora morbido. Questo invece è molto molto bello indurito, molto secco, forse ancora non ha finito, infatti rimane ancora un pochino morbido, però è decisamente molto resistente. quindi si può anche usare appunto come avete visto prima per fare delle colate in stampi o per tanti utilizzi che magari a me non viene in mente, ma magari a voi può venire in mente. Poi qua, oddio ragazzi ho combinato un pasticcio, ho fatto i crash test a questi prodotti qua senza accendere la videocamera, ora rifaccio quello che posso fare, scusatemi. Questo è lo stucco che ho fatto con il polistirolo sciolto con la benzina e è ancora dopo tre giorni ancora un pochino morbido, meno che lo stesso composto senza il il gesso e la terra d'ombra. Si è indurito un pochino di più questo qua, però ancora rimane dopo tre giorni un pochino morbido, infatti vedete che con lo scalpello riesco a tagliarlo bene. in questa maniera. Al contrario questo qua è polistirolo sciolto con l'acetone e si è molto ben indurito. Comunque rimane un pochino elastico ancora, non so se rimarrà così per sempre, sono cose ulteriori prove che andrebbero fatte. Decisamente questo è un impasto molto adatto per fare magari dei calchi, dei decori e cose varie. Questo stucco è fatto con il polistirolo sciolto con il diluente poliuretanico. Vediamo che nelle parti che è sottili è rimasto bello integro, mentre dove ha uno spessore maggiore si è screpolato. Quindi se si vuole ottenere questo effetto crackle si può ottenere anche a questa maniera oppure stendendone uno strato più basso rimane perfettamente liscio a questa maniera. Poi è carteggiabile, l'abbiamo già visto. E infine questo qua è stucco fatto col polistirolo sciolto con il diluente universale e nel risultato questo impasto un pochino più difficile da da spatolare. Infatti mi è rimasto un po' più scabro qua a questa maniera. Possiamo testarne la resistenza anche in questo caso. Direi che sia simile a uno stucco tipo il modo stucco, uno stucco in pasta non catalizzato. Però è molto buono come stucco e lo ripeto, suppongo che sia buono anche per stare all'esterno. Andiamo avanti e vediamo gli incollaggi. Questi sono i quattro incollaggi che ho provato a fare acetone, benzina, poliuretanico e nitro. I più che mi danno speranze sono questi due, specie questo qua con l'acetone. Troviamo ora a scollare e vediamo che succede. Metto così e faccio forza. Infatti questo è muto via in un attimo. Proviamo con il nitro. Quello era poliuretanico, questo è il nitro. Leggermente più resistenza ma anche questo ha fatto pochissima resistenza. Questa è la benzina, vediamo. Infatti questo è un incollaggio decisamente migliore. Dopo tre giorni rimane ancora un pochino non perfettamente asciutto quindi se aspettavo un pochino di più magari aveva ancora più resistenza. Con l'acetone suppongo che oramai sia perfettamente secco. Ecco. E infatti vediamo che si è portato via il legno. Ha ceduto il legno e non la colla. Vedete qui questo scalino perché qua c'è ancora il livello del legno di prima. Qui si è portato via un foglio di legno. Quindi con l'acetone, sciogliendo con l'acetone possiamo fare un'ottima colla. Ah cavoli per poco non mi dimenticavo che ho fatto anche queste altre due stuccature. Una questa qui è un buco molto sottile, praticamente un nodo che mancava sul multistrato quindi lo spessore di uno strato del multistrato. Quindi una stuccatura molto sottile. Ora provo a carteggiare e vediamo che succede. Perfetto. Ora carteggio con una grana più fine. Come vedete è venuta una stuccatura perfetta. Ora mi interessa sapere se mi prende la tinta, se mi prende il mordente qua. Ecco qua. Pennello è mordente e vediamo. Un pochino sì, ma mi sembra che non lo prende molto bene. No, questa tinta qui dovrei colorarlo prima. Un pochino lo prende ma rimane la macchia più chiara. Quindi come quasi tutti gli stucchi non prende molto bene la tinta. E ora non ci resta che quest'ultima stuccatura. Questo era un buco molto profondo, chi l'ha visto se lo ricorderà, e ho provato a stuccarlo con quello stesso impasto per vedere se con il ritiro si spaccava. Spaccare non si è spaccato. Ora provo la carteggiatura, ma il risultato sarà sicuramente lo stesso. Ok, ora una ripassaggina con la grana 150. E via. E abbiamo fatto un'altra stuccatura con il polistirolo. Polistirolo, diluente nitro e gesso. Ed ecco qua. È venuto uno stucco perfetto. Ma a questo punto ho fatto il crash test praticamente a tutto. Mi manca soltanto questo. Vediamo questo che resistenza ha. Direi soddisfacente. Anche considerando che questo è poche ore che l'ho fatto, forse la resistenza deve ancora aumentare. Però per fare dei decori va molto bene. Ma poi ti rendi conto che più vai avanti e più trovi altre cose su cui perpetrare il crash test. Come questo angioletto. Dobbiamo vedere quanto è resistente. E poi siccome gli esperimenti che abbiamo fatto finora, il problema è che ancora non erano perfettamente secchi, ci sono questi che ho fatto da più tempo, da un paio di settimane prima, per fare gli esperimenti prima di fare il video. E quindi questi sono tutti perfettamente secchi. Anche questo e benzina è perfettamente secco. Quindi vediamo qui la vera resistenza. Cominciamo da questo angioletto. Ok, guardate questo angioletto. Ricordatevelo bene perché fra poco non ci sarà più. Vediamo quanto resiste. Vedo che la resistenza è davvero ottima. Ecco, sono riuscito a tagliarlo ma la resistenza è molto buona. Anche se vediamo che all'interno, non so se riesco a farvelo vedere, così fa tutte onde, dentro è una schiuma praticamente. Però è una schiuma molto molto resistente. Passiamo oltre e vediamo, mi incuriosisce, questa è benzina. Voglio vedere quanto è resistente la pasta di legno fatta con la benzina. E vediamo che effettivamente se gli diamo il tempo per seccare è molto molto resistente. Assolutamente non ha nulla da invidiare a quella fatta con l'acetone. Anzi, forse è anche più resistente. Poi vediamo quella magari più secca che abbiamo qua. Però questo è davvero molto molto forte. Questo è con il diluente universale che prima anche questo non era perfettamente secco e vediamo che è molto più friabile. Qui la resistenza è assolutamente minore. Questo è con il nitro. Vediamo il nitro all'incirca. Per la situazione come per l'universale si riesce a spezzare abbastanza bene. Qui abbiamo due prove con l'acetone. Questo praticamente dovrebbe essere la stessa cosa dell'angioletto. E vediamo che in effetti qui la resistenza c'è. Quindi per fare questi stampini va molto bene. Ovviamente non c'è la stessa resistenza della resina epossidica. Ma non ha neanche lo stesso costo. Questa è pasta legno fatta con acetone. Ecco vediamo che è decisamente più resistente di quella fatta con il nitro o con l'universale. Ma un po' meno di quella fatta con la benzina. Quindi se quello che cercate è la resistenza, in questo caso forse il migliore, il solvente migliore è la benzina. E ora ci resta il diluente poliuretanico. A vederla dal colore mi sembra molto interessante. Però no. Meno resistente dell'acetone e della benzina. Più del nitro e dell'universale. Allora, non mi rimane nulla su cui fare il crash test. E ora? Mentre sto ancora girando questo video, ho già pubblicato il primo di questi tre video. Forse ne saranno quattro. Forse farò un video per testare la resistenza di questi vernici, di questi stucchi all'esterno, alle intemperie. Ho già pubblicato il primo video, dicevo, e uno di voi mi ha scritto e mi ha spiegato che lui già da tempo fa vernici a questa maniera. Usando anche le vaschette in cui vendono la carne al supermercato. I cucchiaini per mistiare lo zucchero nel caffè. I bicchieri di plastica. Tanti materiali che sono fatti con il polistirolo più o meno espanso. Questo tipo i bicchieri di plastica è polistirolo, ma non è espanso e rimane così compresso. E sono tutti materiali che possono essere sciolti con i solventi, come avete visto, per farne cose ben più interessanti. Fate attenzione perché per sciogliere questi materiali i solventi sono molto inchiammabili se non esplosivi. Come l'acetone e la benzina sviluppano vapori che esplodono. Quindi fate molta molta attenzione. E purtroppo ho finito di fare il crash test e non altro da crash testare. Ma forse mi rimane un ultimo crash test da fare. Ma sì, via! E dopo quest'ultimo crash the test vi saluto e vi do l'appuntamento a sabato prossimo con il prossimo video. Ciao ciao amici!